Musica Ben ritrovati e anche a questo nostro nuovo appuntamento con l'informazione. Iniziamo subito con un caso di pedopornografia, operazione Cucciola, la Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Liguria ha concluso una complessa e articolata operazione internazionale di contrasto alla pornografia minorile online, coordinata dal Servizio Centrale della Polizia e delle Comunicazioni di Roma. Le indagini svolte sul territorio nazionale hanno fatto scattare una serie di perquisizioni nei confronti di 12 italiani residenti tra le province di Padova, Milano, Como, Torino, Verona, Brescia, Palermo, Piacenza, Campobasso e Cagliari con il conseguente sequestro di un gran numero di computer, smartphone e dispositivi digitali di memorizzazione. L'attività di monitoraggio, supportata anche dall'FBI americana attraverso l'Ambasciata degli Stati Uniti all'America, ha inizialmente portato a individuare una casella di posta elettronica molto attiva nello scambio di materiale pedopornografico. Il responsabile è stato identificato in un 21enne di Genova, utilizzatore di un account che aveva appunto chiamato Cucciola. In alcune circostanze i genitori ignari hanno preso dell'attività criminosa dei rispettivi figli in occasione di visite di amici utilizzatori degli stessi dispositivi e della stessa connessione. Uno degli indagati, oltre a scambiare materiale pedopornografico utilizzando falsi profili sociali creati appositamente, è riuscito a ottenere immagini intime di minori convinti di aver instaurato una chat erotica con una ragazza coetanea. Il primo furto risale a sabato scorso in Via dell'Ellis, in quartiere San Camillo a Padova, ai danni di una signora di 82 anni. La domenica la vittima si era recata in questura per svolgere denuncia, ma aveva trovato gli uffici già chiusi. Lunedì ci ha pensato il malvivente stesso a consegnarsi ai carabinieri, franando al suolo davanti a loro con il malloppo appena raccimolato, cadendo dal terrazzo della stessa casa dove già sabato aveva perpletato il furto. Nel sacco caduto insieme a lui sono stati rinvenuti dei munili e dell'argenteria di proprietà dell'anziana signora e in particolare alcune statuine ed altri oggetti di tipo orientale. E hanno contantato una anziana signora, malquanto arzilla 86enne, residente in centro a Padova, per tentare di mettere a segno ancora una volta l'ormai consueta nota truffa dell'avvocato. Ma questa volta hanno trovato pane per i loro denti perché la nonnina era stata chiamata da un uomo che si spacciava per un avvocato e che avvisava che il nipote era stato trattenuto dalle forze dell'ordine in seguito ad un incidente. Per liberarlo e usufruire delle sue finte prestazioni le chiedeva un compenso di ben 4.800 euro. Ma una tecnica che ha ormai ammiettito diverse vittime anziane, ma non l'arzilla signora che ha mangiato la foglia e quindi dia risposto al telefono, telefoni alla madre. A quel punto immediata la denuncia ovviamente in questura. Guida la sua auto nonostante fosse ubriaco, un vero pericolo in giro per le strade che non è passato inosservato ai carabinieri transitati per il paese di Sant'Angelo di Piove di Sacco e quindi lo hanno fermato per un controllo. L'episodio è avvenuto questa notte, la pattuglia si è accorta che qualcosa non andava e ha deciso di fermare quest'Audi A3 sulla quale viaggiava l'uomo, un operaio di 30 anni pregiudicato, originario di Fossò. Dall'alcoteste è risultato che nel sangue l'automobilista aveva un tasso alcolemico ben tre volte superiore il limite consentito. Immediata la denuncia per guida in stato di ebrezza e il sequestro immediato del mezzo. Il pubblico ministero Daniela Randolfo ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo il fidanzato di Valentina Moschino, la 44enne barista padovana, deceduta nella notte di sabato 2 aprile in un incidente stradale in via Pilon a Monteortone di Abano Terme. L'auto sulla quale viaggiava la vittima, una Toyota di proprietà del compagno, sarebbe stata senza revisione fin dal 2011. Per questo il sostituto procuratore ha disposto una verifica sullo stato di sicurezza del mezzo. Quella sera Valentina era stata con il fidanzato con cui conviveva in un ristorante giapponese. Dopodiché lui era tornato a casa mentre lei si era fermata ad una festa al centro ricreativo di Abano Terme. Poi ovviamente il tragico epilogo. I militari del gruppo di Padova della Guardia di Finanza hanno sequestrato più di 1.235.000 articoli tra accessori di moda, materiale e informatico, giocattoli non sicuri. L'importante sequestro è avvenuto nel corso di due distinti interventi. Il primo nei locali di una ditta individuale all'interno del centro Ingros o Cina in corso Stati Uniti a Padova. Il secondo all'interno di un magazzino di una società in accomandita semplice con sede nelle immediate adecenze dello stesso China Ingros. Nel mirino due grossisti di origini cinesi che si occupano di rifornire dettaglianti e ambulanti. Si tratta di prodotti di vario genere destinati ad una platea vasta di fruitori, tra cui soprattutto i più piccoli che finiscono così per essere esposti al rischio di beni che non rispettano gli standard di sicurezza richiesti dalle normative nazionali e anche quelle europee. E stava entrando a Palazzo di Giustizia come tante altre mattine per assistere alle udienze dei processi e svolgere quindi il praticantato di avvocato. D'improvviso è incrociato sulla sua strada una giovane donna sui 30 anni, pelle ambrata, e quest'ultima che usciva dal palazzo è andata verso di lei e le ha sferrato un pugno alla macella sinistra. Protagonista della disavventura, una 26enne praticante avvocato di Cittadella con i riflessi pronti ha piegato la testa riuscendo ad evitare l'impatto violento ma rimediando ugualmente un ematoma. La ragazza ha gridato, l'aggressore è scappata, ma nel frattempo sono usciti i vigilantes dell'istituto che controlla l'ingresso del tribunale senza poter fare nulla. E' denunciato un libero professionista, nonché 5 dipendenti di un istituto di credito che lo hanno aiutato a sottrarre alla moglie 90 mila euro. Sono accusati tutti di appropriazione in debita, falsità in scrittura privata e favoreggiamento personale. Il libero professionista di 53 anni con la complicità dei 5 dipendenti della banca del Medio Polesine avrebbe commesso questo reato con un raggiro a danno della consorte con la sottrazione di 90 mila euro per pagare i propri debiti. E un'ultima notizia, nuova decisione approvata dall'ultimo Consiglio Comunale che ha cancellato la Commissione per la rappresentanza degli stranieri in calica dal 5 novembre del 2007. Il sindaco di Padova, Massimo Bitonci, l'ha infatti inserita negli enti non indispensabili secondo la spending review decisa dallo stesso primo cittadino. Duro il confronto in aula con le opposizioni che hanno gridato allo scandalo. È stata presentata questa mattina alla stampa la manifestazione per gli innamorati delle due ruote denominata BAM che per la prima volta sarà in Veneto e vedrà il raduno europeo dei cicloviaggiatori fermarsi in una tre giorni nella suggestiva cittadina di Noale. Le partenze con le bici organizzate dalle città di Padova, Treviso e Venezia verso la cittadina di Noale appunto saranno quelle di Prato della Valle, Piazza dei Signori e Parco San Giuliano. Preannunciati numerosi appuntamenti a misura della bicicletta con concerti gratuiti, workshop, mostre fotografiche con giornalisti e viaggiatori ma anche ride BAM che si snoderanno lungo le interminabili strade bianche di 100, 150 e 14 chilometri tra il verde della campagna veneta senza limiti di tempo. BAM è il primo evento in Italia che mira ad intercettare fenomeni in forte crescita come quello del bike packing, bici gravel e della bici avventura. Ma sentiamo i protagonisti di questa tre giorni annuale. Io credo che i visitatori ciclisti saranno veramente colpiti dal polmone verde che abbiamo nel cuore della città. Circondato tra l'altro dalle acque del Marzenego e quindi rocca, verde e acqua è sicuramente un connubio che fa piacere anche dal punto di vista paesaggistico a chi ci viene ad incontrare. E poi naturalmente tutti i percorsi che si diramano dal centro della città e che ben si prestano ad essere visitati e percorsi sulle due ruote. Un luogo che si presta, un territorio che si presta a questi percorsi? Assolutamente sì perché a fianco a piste ciclabili ci sono anche tanti percorsi interni in sicurezza, ancora delle strade bianche anche nelle zone più di campagna con tutto il loro fascino e quindi sicuramente dei bei itinerari anche per i nostri ciclisti. È un grande piacere per noi, l'abbiamo accolto a braccia aperte perché qualifica quella che è la nostra partenza di tappa. Qualifica proprio dal punto di vista delle immagini e dal punto di vista turistico. In quanti hanno partecipato alla realizzazione di questa tappa? C'è un grande fermento, ci sono moltissime persone che sono coinvolte. Dobbiamo ringraziare tutti, ringraziamo in primis Giovanni Scappini che ci ha dato l'opportunità di portare il BAM, l'organizzazione vera propria del BAM e tutti quelli che sul territorio stanno lavorando, in primis li sponsor che sono indispensabili per costruire un percorso importante, una bella tappa noale. Senta, BAM in contemporanea anche con il giro d'Italia? Sì, ecco, questo connubio è eccezionale perché tocca l'aspetto agonistico da una parte e l'aspetto turistico dall'altra e diciamo anche dà un messaggio di mobilità sostenibile. Quindi tante cose belle messe insieme, speriamo nella giornata faremo insieme una grande festa. E poi la curiosità, potranno dormire dentro la torre. Sì, la locca di tempesta è un posto unico, un po' particolare. Credo che questo sia uno dei tanti aspetti per venire a Noale per fare festa con noi. È tutto, grazie per averci seguito. Ora la linea ritorna ai colleghi delle altre redazioni. Noi ci diamo appuntamento alle prossime edizioni. Noi ci diamo appuntamento alle prossime.